Sanità Giuseppe Provinzano eletto nel direttivo del sindacato delle professioni infermieristiche Nursing CGS nel ruolo di segretario amministrativo. Salvo Calamia ha riconfermato all'unanimità come segretario regionale mentre il vice segretario sarà Alfredo Guerriero e Paolo Consiglio ricoprirà il ruolo di responsabile della formazione regionale. Il sindacato della Sanità Nursing CGS oltre alle cariche elettive ha deciso di dichiarare guerra al lavoro usurante ed è per questo che ha formato una task force a livello regionale che raccoglierà le tante segnalazioni che su casi di sovraccarico di lavoro e gravi disagi serviranno a provare a tutelare gli operatori sanitari esposti a rischio di errori. Questo è stato uno dei punti approvati all'ordine del giorno dal sindacato che si è riunito ad Agrigento per rinnovare i vertici regionali. Inoltre hanno sottolineato nella nota diffusa che le segreterie territoriali hanno anche concordato di proporre subito al nuovo assessore alla sanità l'attuazione dei criteri delle linee guida da fornire a tutte le aziende sanitarie per il reclutamento attraverso procedura di stabilizzazione del personale covid che ne ha diritto per legge. Ulteriore tema che sarà affrontato da Nursing è quello sottoposto al sindacato al governo regionale ovvero il pagamento del bonus covid 1.000 euro per ogni mese di effettiva presenza durante la prima emergenza pandemica del 2020. In agenda anche la battaglia sul tema delle assunzioni per cui il Nursing da CGS lavorerà per sbloccare concorsi e le mobilità in stallo. Dice Giuseppe Provinzano si apre una nuova fase di relazioni sindacali con la firma del contratto collettivo nazionale del lavoro avremo la possibilità di essere presenti in tutti i tavoli in tutte quelle realtà ospedaliere portando proposte migliorative delle condizioni economiche e lavorative.